e marco se c'è il microfono disattivato marcos il microfono ok mi sentite sì ok questo questo pezzo è stato scritto da un guitarista che si chiama Garotto Augusto Aníbal Sardinia brasiliano e il grande Vinicius de Moraes ha messo la poesia si chiama Gente Humilde this piece the name of this piece is Simple People and write by Garotto Augusto Aníbal Sardinia and the poesia is was written by Vinicius de Moraes this is my arrangement for classical guitar and the poesia is the most important part of this piece is the most important part of this piece and the poesia is the most important part of this piece is the most important part of this piece and the poesia is the most important part of this piece is the most important part of this piece so so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.